Il PD ha rispetto dell'azione degli inquirenti, della loro autonomia e ha soprattutto fiducia nella magistratura perché questo scandalo tangente, questa situazione gravissima che ha messo in ginocchio Abano, che sta svergognando un'intera comunità, a prescindere da destra e sinistra, venga al più presto chiarita. Quindi invito tutti a collaborare con la magistratura. L'unica indicazione che diamo è questa, stop alle strumentalizzazioni, lasciamo che le autorità facciano il loro mestiere. Grazie.